Oggi siamo su Minecraft, le Skywars di Lifebot, ho fatto i jungle games di Lifebot e sto facendo le Skywars perchè queste qua si stanno limonando e quindi non so cosa dire quindi ho fatto il mio allenamento che è... e ora vinciamo a giocare torta di zucca torta di zucca torta di zucca per l'amico Simone Blanco lo saluto Simone Blanco e ciao ciao per lui in descrizione Simone Blanco legge la descrizione perchè ti lascio l'IP di un server per il computer e ti servirà perchè figo ci sono le Eggwars, Badwars, Sky Giant tipo, le Wars e tante altre cose fighe che ti dico come si chiama se leggi la descrizione perchè la descrizione serve a questo ok abbiamo l'arco ed è una cosa molto vantaggiosissima allora la terza cesta dov'è? terza cesta! non c'è vero? no? di cesta? si gioca a di cesta? si gioca a di cesta? andiamo a torturare quella la svelte, 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 svelte... si fidiamoci nooo non ci arriviamo prendiamo altri blocchi altri blocchi non ce ne sono più maledezza e poi qui no raga mi è venuta in mente una cosa fighissima no ora tortura tutti guardate come faccio mentre la crafting table mi crafto la pala non me la craftata aspetta no lascia la pala crafto la pala prendo la pala e scavo la nera non c'è neve what the fuck no figo ora questi li piazzo guardate guardate piazzo questi raga appena finisco di piazzare questi guardate che figo li piazzo li piazzo prendo la pala e mi da la neve con questa neve posso torturare la gente spingerla di sotto ed è una cosa figa mi sento cattivo no si è buttato prima di ridere la gente quando si butta 1 2 3 8 5 6 7 8 9 ragazzi 11 e 12 prendo la pala non ci posso credere sono un pezzo sono di merda ma come mi è venuto in mente di fare questo sacrificio vabbè va torno al lab e facciamo younger games che sono molto più bravo verso younger games e altro ragazzi ci vuole un altro profilo bello ciao ok mi sono alloginato mi sono alloginato non si può sentire mi sono alloginato mi sono alloginato oh oh giuniamo allora 3 minuti e facciamo il gioco se si toglie il bug venga non parlare con nessun altro eh ora resta con me non utilizzare la chiamata e basta perché che tu fa quando così ti è io stavo facendo mi piace mi piace uguale l'uomo no no ma il video è stato qui può morire oh no qua sono un riot qua Qua Scritto male poi Sì che stai riuscano Pupupupupu I'm black Ciao, musica ciao Comunque ciao Ti saluto ciao ciao Levo 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 levole Alt yazンチャンネル Silica Hulk Alt yaz affair e Drek wow per WU sim io mi amo come manete la mia pausa VU WU WU non lo prendo lo stesso wow wow cos'ho trovato? il bengidio il bengidio ho trovato un diamante ho trovato un diamante ora non devo morire non devo morire scacca spacca spacca no scacca cretino scacca no cosa ci uccide ora? sicuro ahhhh ahhhh mamma è più gona ma che c'è? ma che c'è? c'è la spada scappa scappa dimmi 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 ma che è? a chi è laura? 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 nooo ho fatto uno mio ho fatto uno mio ho fatto uno mio faccio una bad wars nooo nooo si ok faccio le bad wars boom faccio le bad wars boom boom ciao 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 a tutti ciao a tutti scriviammelo bye ciao 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 ragazzi taglio il video fino a quando non trovo una bedua ok ragazzi sono team blu wow team blu sopporta sempre fortuna esploriamo questo qua comunque raga ora taglio il video taglio il video raga abbiamo cominciato aspetta dove è bronze ragazzi ora li frega guarda sotto a così spungo il livello ma 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 faccio scoppiare tutto raga tre minuti i rossi non l'hanno letto 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 Grazie.